Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi celebriamo la terza Domenica di Avvento, caratterizzata dall'invito di San Paolo. Non è un'allegria superficiale o puramente emotiva quella alla quale ci esorta l'Apostolo. E nemmeno quella mondana o quella allegria del consumismo, no, non è questa. Ma si tratta di una gioia più autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il sapore, il sapore della vera gioia. E' una gioia che tocca l'intimo del nostro essere, mentre attendiamo Gesù, che è già venuto a portare la salvezza al mondo, il Messia promesso, nato a Betleme dalla Vergine Maria. La liturgia della parola ci offre il contesto adeguato per comprendere e vivere questa gioia. Isaia parla di deserto, di terra arida, di steppa. Il profeta ha davanti a sé mani fiacche, ginocchia vacillanti, cuori smarritti, ciechi, sordi e muti. E' il quadro di una situazione di desolazione, di un destino inessoriabile senza Dio. Ma finalmente la salvezza è annunciata. Coraggio, non temete, dice il profeta. Ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarvi. E subito tutto si trasforma. Il deserto fiorisce, la consolazione e la gioia pervadano i cuori. Questi segni, annunciati da Isaia come rivelatori della salvezza già presente, si realizzano in Gesù. Egli stesso lo affirma, rispondendo ai messaggeri inviati da Giovanni Battista. Cosa dice Gesù a questi messaggeri? I cecchi riacchistano la vista, gli sopi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Non sono parole. Sono fatti che dimostrano come la salvezza portata da Gesù afferra tutto l'essere umano e lo rigenera. Dio è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato. Ha posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova. La gioia è il frutto di questo intervento di salvezza e di amore di Dio. Siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dal sentimento di esultanza. Questa esultanza, questa gioia. Ma un cristiano che non è gioioso, qualcosa manca a questo cristiano. O non è cristiano, la gioia del cuore, la gioia dentro, che ci porta avanti e ci dà il coraggio. Il Signore viene, viene nella nostra vita come liberatore, viene a liberarci di tutte le schiavitù interiori e esteri. E' Lui che ci indica la strada della fedeltà, della pazienza, della perseveranza, perché al suo ritorno la nostra gioia sarà piena. Il Natale è vicino. I segni del suo approssimarsi sono evidenti per le nostre strade e anche nelle nostre casse. Anche qui, in piazza, è stato posto il presepio con accanto l'albero. Questi segni esterni ci invitano a cogliere il Signore che sempre viene e bussa la nostra porta, bussa il nostro cuore, per avvicinarci. Ci invitano a riconoscere i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi. Oggi siamo invitati a gioire per la venuta imminente del nostro Redentore e siamo chiamati a condividere questa gioia con gli altri, donando conforto e speranza ai poveri, agli ammalati, alle persone sole e infelici. La Vergine Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad ascoltare la voce di Dio nella preghiera e a servirlo con compassione nei fratelli, per giungere pronte all'appuntamento con il Natale, preparando il nostro cuore ad accogliere Gesù. Cari fratelli e sorelle, ogni giorno sono vicino, soprattutto nella preghiera, alla gente di Aleppo. Non dobbiamo dimenticare che Aleppo è una città, che lì c'è della gente, famiglie, bambini, anziani, persone malate. Purtroppo ci siamo ormai abituati alla guerra, alla distruzione, ma non dobbiamo dimenticare che la Siria è un paese pieno di storia, di cultura, di fede. Non possiamo accettare che questo sia negato dalla guerra, che è un cumulo di soprussi e di falsità. Faccio appello all'impegno di tutti perché si faccia una scelta di civiltà, non alla distruzione, sia alla pace, sia alla gente di Aleppo e della Siria. E preghiamo anche per le vittime di alcuni efferati attacchi terroristici che nelle ultime ore hanno colpito vari Paesi. Diversi sono i luoghi, ma purtroppo unica è la violenza, che semina morte e distruzione. E unica è anche la risposta, fede in Dio e unità nei valori umani e civili. Vorrei esprimere una particolare vicinanza al mio caro fratello Papa Tawadro II e alla sua comunità, pregando per i morti e i feriti. Oggi, a Vientiane, in Laos, vengono proclamati beati Mario Borzaga, sacerdote dei missionari obblati di Maria Immaculata, Paolo Tzok Tzok Tzok, fedele laico catechista, e quattordici compagni uccissi in odio alla fede. La loro eroica fedeltà a Cristo possa essere di incoraggiamento e di esempio ai missionari, specialmente ai catechisti che nelle terre di missione svolgono una preziosa e insostituibile opera apostolica per la quale tutta la Chiesa è loro gradita. Pensiamo ai nostri catechisti. Tanto lavoro fanno, tanto bel lavoro. Essere catechista è una cosa bellissima e portare il messaggio del Signore perché cresca in noi. Ma un applauso ai catechisti, a tutti! Saluto con affetto tutti voi, cari pellegrini provenienti da vari paesi. Oggi il primo saluto è riservato ai bambini e ragazzi di Roma, venuti per la tradizionale benedizione dei bambinelli, organizzata dagli oratori parrocchiali e dalle scuole cattoliche romane. Cari ragazzi, quando pregherete davanti al vostro preseppi, con i vostri genitori, chiedete a Gesù Bambino di aiutarci tutti ad amare Dio e il prossimo. E ricordatevi di pregare anche per me, come io mi ricordo di voi. Grazie. Saluto i docenti della Università Cattolica di Sydney, la corale de Mosteiro de Grigio in Portogallo e i fedeli de Barbanello e Campobasso. Auguro a tutti una buona domenica e non dimenticatevi di pregare per me. E una cosa vorrei dire ai bambini e ai ragazzi, vogliamo sentire una canzone vostra. Arrivederci e buon pranzo. Cantate. Grazie. Grazie a tutti.